amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi volevo riprendere uno degli argomenti che abbiamo già trattato precedentemente in vari video dato che appunto spesso ci arrivano delle richieste che ci fanno appunto delle domande su che senso o qual è la motivazione per la quale ritoccare lo scarico quali sono i componenti dello scarico più opportuni da modificare che i risultati ottengo a seconda della modifica di un componente piuttosto che un altro quindi ogni tanto facciamo dei diciamo delle puntate riassuntive diciamo così in maniera da riprendere l'argomento e rispecificare alcune cose per quelli che magari non l'hanno recepito precedentemente quindi parliamo appunto adesso io ho fatto qua uno schema molto empirico molto semplice di come sviluppate una linea di scarico quindi partiamo da quello che è il collettore di scarico parliamo di una macchina turbo in questo caso se la macchina non è turbo questo pezzo qua si giunta direttamente con il FAP comunque parliamo di una macchina turbo noi abbiamo un collettore di scarico che ovviamente è collegato direttamente con il motore subito dopo il collettore c'è la turbina attaccata la turbina c'è appunto una parte che riguarda i sistemi anti inquinamento che sono sostanzialmente il FAP sono sigle sostanzialmente il FAP che è il filtro antiparticolato che riguarda sostanzialmente le vetture diesel e l'OPF che è il nuovo sistema per abbattere appunto le sostanze inquinanti sulle vetture a benzina il concetto è sempre quello poi attaccato al sempre nello stesso contenitore c'è il catalizzatore qua parliamo di macchine diciamo relativamente recenti su macchine di 10 12 anni fa queste due parti erano separate cioè il FAP era posizionato in un punto diverso quindi un barilotto unico per il FAP e il catalizzatore era a sé stante poi può essere posizionato in questa posizione quindi a monte o a valle della turbina poi ci sono alcune macchine che hanno addirittura un precatalizzatore un catalizzatore principale il precatalizzatore è posizionato sul sulla parte terminale del collettore e il secondo catalizzatore è messo dopo la turbina ovviamente qua io non ho segnato ma ci sono delle sonde che rilevano appunto il differenziale di pressione sonde che poi sono collegate alla centralina elettronica centralina elettronica che ovviamente se tutto il sistema funziona garantisce il corretto funzionamento del motore nel momento in cui una di questi componenti ha delle problematiche il differenziale di pressione lo rileva e la centralina elettronica in questo caso facciamo l'esempio del FAP se il FAP è pieno perché dopo un determinato numero di chilometri il FAP si riempie di particolato ovviamente il differenziale di pressione non rientra più nei parametri definiti dalla casa la centralina elettronica recepisce questa modifica e manda un segnale per cui viene all'interno del FAP iniettato quello che è il combustibile piuttosto che l'additivazione per bruciare il particolato. Subito dopo questa parte appunto questo sistema che determina le diciamo le modifiche cioè i componenti antinquinamento parte quello che riguarda la silenziosità dello scarico abbiamo solitamente un tubo centrale che nella maggior parte dei casi ha un suo silenziatore o un rompifiamma comunque è silenziato ci sono alcune macchie che addirittura ne hanno anche due o anche tre prendiamo non so la Swift Sport ha un centrale con addirittura tre piccoli silenziatori per arrivare infine al terminale di scarico o parte finale chiamiamola come la vogliamo che può essere o parallela al parametri posteriore o perpendicolare al parametri posteriore e questo qua è un vero e proprio silenziatore cioè all'interno ci sono delle camere tali per cui il gas dal centrale arriva in questo barilotto fa un giro particolare e viene fono assorbito da questo materiale che sostanzialmente è lana di roccia che viene va a attutire la rumorosità dello scarico e da qui poi esce sostanzialmente pulito i gas di scarico escono puliti da qua adesso io vi farei vedere casomai passiamo dall'altra parte vi faccio vedere uno scarico quantomeno la parte dove noi lavoriamo in maniera direi quasi giornaliera è sulla parte che riguarda la rumorosità cioè tanti ci chiedono di avere un sound più sportivo perché ovviamente le macchine più recenti soprattutto le macchine che hanno l'OPF cioè macchine diciamo di recente costruzione non hanno sonorità anche macchine diciamo sportive non hanno praticamente sonorità l'unico sistema per andare a guadagnare un qualcosina e andare a lavorare quantomeno su questi due componenti quindi adesso vi faccio vedere passiamo dall'altra parte come vi dicevo questo ho composto per terra giuntandoli un po alla bene meglio diciamo così una linea di scarico che riguarda la parte centrale e la parte terminale in questo caso come ho detto prima abbiamo in mano una una swift sport alla 1400 hybrid e questo è proprio lo scarico sportivo ne montiamo tantissimi su questa macchina lo scarico sportivo in sostituzione dell'originale in sostanza che cosa abbiamo la linea di scarico originale è sempre fatta in questa maniera cioè ha un terminale destro e un terminale sinistro con la differenza che il nella configurazione originale il silenziatore finale che poi è questo è molto più grande quindi noi andiamo a modificare la parte terminale con un sistema omologato che ovviamente esce poi esteticamente in questo caso esce dai due fori che sono predisposti sul paraurti con delle uscite da 112 in carbonio quindi anche esteticamente cambia molto la come dire il look della macchina questo silenziatore qua rispetto a quello originale è grosso a una volumetria grosso modo della metà un 50 per cento di riduzione però è sempre silenziato essendo silenziato la ragazzo in questo caso la ditta produttrice la ragazzo ci fornisce la carde di omologazione dove appunto è specificato il codice del terminale e la macchina sulla quale andremo a montarlo 1400 booster jet hybrid quindi è dotato di certificato di omolazione per avere a questo punto una sonorità diciamo appagante non eccessiva perché non stiamo parlando di sonorità fracassone o cose eccessivamente rumorose abbiamo visto ne abbiamo fatte centinaia di macchine siamo arrivati a conclusione che la diciamo il l'accoppiamento vincente è terminale omologato e centrale diretto questo è una parte del centrale poi qua c'è un altro pezzo di tubo ma è un tubo diretto quindi ne ho montato solo uno questo pezzo di tubo attaccato a quello successivo va sostanzialmente eliminare tre piccoli silenziatori che non sono proprio dei sensatori sono dei rompifiamma perché se uno li guarda attraverso sono comunque passanti che hanno una parte diciamo a contatto con il tubo forellata e hanno la parte diciamo del barilotto piena di lana di roccia questo va a fondo assorbire il rumore serve per andare ad abbassare i decibel quindi il fatto di togliere questi tre piccoli silenziatori unitamente alla parte terminale silenziata ci consente di avere una sonorità perfetta perché siamo sempre dentro i limiti di legge questo pezzo qua è omologato questo qua teoricamente anzi non teoricamente in pratica non è omologato però diciamo che difficilmente qualcuno va a vedere si sdraia sotto alla macchina per andare a vedere che mancano questi piccoli barilotti diciamo che uno si limita uno intendo se uno dovesse venire fermato si limita a controllare quello che è l'omologazione del terminale dato che comunque la vettura non farà mai un diciamo un rumore oltre i 90 decibel quindi con questo sistema qua riusciamo a garantire un ottimo risultato in termini sound bellissimo prodotto perché appunto rispetto a quello originale il fatto di avere dei tubi in carbonio che escono perfetti ricavati all'interno delle nicchie già fatte anche esteticamente molto appagante e anche da un puntista prestazionale non tanta roba ma un 2 3 cavalli li andiamo a guadagnare questo per quanto riguarda i lavori che facciamo normalmente poi se uno vuole diciamo fare una preparazione quindi saltiamo già da uno stage 1 a uno stage successivo ovviamente lì si andrà a parlare di catalizzatore metallico piuttosto che di altri accorgimenti. La parte che riguarda il FAP noi siamo abbastanza contrari cioè se il FAP funziona cioè se il sistema FAP funziona consigliamo sempre di lasciarlo in opera in maniera tale da non avere problemi in caso di revisione o quant'altro. Purtroppo ci sono macchine molto datate o relativamente datate cioè tutte le macchine dal 2008 al 2011 che montavano i primi sistemi FAP estremamente empirici diciamo erano i primi FAP che venivano montati sul mercato e onestamente non erano da un punto di vista funzionale delle grosse cioè creavano hanno creato e creano tuttora dei grossi problemi quindi ci sono delle macchine che gioco forza o creano problemi al motore alla turbina o quant'altro o devono rimettere un FAP nuovo in questo caso con costi veramente molto impegnativi o se no a quel punto si proprio si elimina il FAP da un punto di vista fisico si chiudono i cicli di pulizia e la macchina ritorna a funzionare in maniera efficiente. Purtroppo lo facciamo malvolentieri questo questo sistema è un'alternativa per non andare poi a o gravare in maniera eccessiva sull'economia del lavoro che poi pagherà il cliente o il fatto che se uno usa come abbiamo giù adesso una una Peugeot il cliente ha usato la macchina col FAP intasato per troppi chilometri cosa succede ha fatto fuori GR ha fatto fuori turbina alla fine abbiamo dovuto togliere il FAP perché era talmente incrostato che non si poteva assolutamente neanche andare a ripristinare con un sistema particolare c'è anche un sistema per riportarlo a piena efficienza non era assolutamente possibile perché era praticamente un blocco dove non passava praticamente più quasi più nulla e ha creato problemi ben più gravi quindi se uno si accorge di questa cosa è meglio prevenire un pochino prima che non arrivare al limite perché i costi ovviamente si si rompono subito determinati componenti prima fra tutti la turbina aumentano le temperature dei gas di scarico alla turbina la prima cosa che che parte io direi spero mi auguro di essere stato esaustivo sul discorso del dello scarico per comunque ripeto io sono sempre qua in sede per qualunque informazione mi potete contattare quando volete dall'undinio al venerdì allo 0273 83175 quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella in basso a destra e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao